Bene ragazzi bentornati sul mio canale, secondo video di oggi perché ho visto che ci sono 3 pacchetti speciali E quindi oggi andiamo ad aprirle questi 150.000 più Altry Quindi subito iniziamo con quello da 50.000, ci sono 12 giocatori tutti oro rari E c'è anche la squadra della settimana che ve la faccio vedere, come disse vostra madre Questa è la squadra della settimana, it's not bad Comunque andiamo a spacchettare male come Porchim Diciamo che oggi spacchettiamo 250.000 quindi questi 3 più altri 12-13 pacchetti normali Vediamo subito, let's go, dai su, te prego Il potere del culo, io ho il potere del culo Il potere del culo, il potere del culo, il potere del culo Degli tu madre, non taci, i tuoi Hitler Valdes, Pepe Ramirez, cagava Reinald Bayer Moll è andato grande Oddio ho letto Hitler ve lo giuro Vlar Ermi gnotta E intanto adesso crascia E no, strano, grande Cioè non potete non mettere like a un culo Su, via Secondo pacchetto Second pacchetto Ti prego, ti prego FIFA Io ti amo FIFA Se il mio gioco non sono mai andato con PES, lo giuro Tutti doppiono Sau, shur, le Fuakuputu Fuakuputu, grande Guerriero di Africa Niente, raga, non ci siamo Non ci siamo proprio Allora, l'ultimo pacchetto Ti prego Allora Io lo lascio solo il culo Lo lascio così Ti prego Ma cos'è questa merda? Cos'è questa merda? Weidenfeller, Gerardo Di nuovo l'uomo più triste del mondo Oba oba Fotolski, Giamutinio Cigarini Cardoso Walker Erlasagna Allora, abbiamo spiegato i nostri soldi Quindi andiamoci ad aprire i nostri 13 pacchetti oro premium Dai, sul primo pacchetto premium lo salto Lo schifo Lo sgarro Che stemmi brutti Allora, andiamoci subito sul secondo pacchetto Let's go, let's do it Bitches Come on Come on, bitch Come on Come on Ho tirato un calzino Lui ha preso Come on Come on Ma Pepe di nuovo? Lo trovo prima e doppione Ora crasha Ora crasha Vado perché non mi segna doppione Vedi? Non segna doppione i giocatori Crasha Non capisco perché non mi segna doppione i cosi E crasha il mondo È tutto un bug Allora, pacchetto oro Dobbiamo aprire altri 11 Altri 11 Come on, bitches Come on Allora, io faccio un giro E troverò Un if Piasonno pure è doppione, regà Mori i rush Piasonno anche è doppione Ve lo dico, guarda No Quarto pacchetto, signori Ti prego Io vorrei dire che Ho culo su ultimate team Ma non è vero Modifica ruolo Magliette brutte Cos'è questa maglietta? Cos'è questo? Quanto? Non è il co Questo è tutto È un rettangolo Ho perso anche il conto di quanti pacchetti ho aperto Questo dovrebbe essere il quinto o il sesto Non mi ricordo Forse il quinto, forse il sesto Forse un pacchetto inutile in cui non troverò niente Colucino Ah, se è be' Questo assomiglia a qualche attore A parte che i giapponesi sono tutti uguali Il settimo pacchetto Come on Come on Come on Non so Ci dovi qualche altro portafortuna io Per forza, regà Io trovo I muratori, no? Gago Detto è cacca Lukaku Detto è merda E lui fa Devo scorriggere Go Oh, di nuovo go Grande go Il fratello si chiama reggia Che ho reggia Ottavo pacchetto, signori Ottavo pacchetto Ci dov'è Non bastava La visione 6D Ci prendiamo a aiutare Regà, Zunica è il doppione Ma non c'è tipo guarigione Terza gamba Con una Massaggiatrice Che fa un pompino Se non ci fosse scritto Beretta davanti Sarebbe pure bella La terza maglietta Guardate come crash Uno No 3 2 1 Crash Nono pacchetto, signori Meno 5 Vediamo se riusciamo a trovare Un if Non chiedo tanto Chiedo un if Uno Uno Poi c'è culo Non è normale La terza maglietta del Bayern Ok Decimo pacchetto Oro da 7500 Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa Anche tenere dubbi Ormai Perciò le speranze Di trovo a qualcuno Sono pure le speranze Icardi Grandi Ripeto che voglio vandanare Undicesimo Quindi terzo Ultimo pacchetto Io veramente Sto cominciando a perdere le speranze È doppione Nasri Nasri è doppione Cosu Mortacci tua Peluso Penultimo pacchetto Signori Di questa merda Di merda Del merda Con la merda Leo Leo Messi Ti giuro Ti Ti arzo Ush che culo La parola di giuro è Ush che culo Questo adesso Che capigliatura è E allora adesso Andiamoci ad aprire L'ultimo pacchetto Questo senza tagli Senza niente Senza censure Sempre vita moderna Vita mondana Roma malata Roma accortellata Vita desterata Let's go Let's go Ti prego È l'ultimo Bocchetti Tu sorella Fai bocchetti I pack opening Ormai Voi continuate a chiedermeli Perché penso che vi piacciono Perché fanno sempre 100.000 views Quindi vi piacciono Però Questa è la mia fortuna Purtroppo E se facessero più offerte Più che altro adesso Perché è finita la stagione Quindi Le offerte sui pacchetti So poche Magari sarebbe anche meglio Perché almeno Non lo so Cerchiamo di trovare qualcuno Tra l'altro FIFA 15 Cercherò di farne di più Comunque Noi ci vediamo alla prossima Lasciate un like Un commento La prossima sarà ovviamente Dopo tomorrow Quindi noi ci vediamo alla prossima Bella Ciao